Il Cittadella, ogni squadra comunque non è male, il cambiante serbico è un cambiante importante, non ci ha fatto giocare, erano molto aggressivi, poi ci ha fatto gol dopo un minuto, magari un po' l'amarezza, un po' perché dopo un minuto prendi gol e nessuno si aspettava, comunque per le nostre due disattenzioni, dobbiamo cercare di cambiare rotta, cercare di andare a Parma e fare risultati. Ho avuto un po' di problemini, ho avuto la prima Foggia che aveva la febbre, poi ho avuto Manacaviglia, poi in altre partite il mister ha visto altre persone meglio, quindi ha messo loro, ma no, si può fare di più e si deve fare di più come tutta la squadra, quindi ci alleniamo sempre al massimo per dare sempre di più. Sicuramente sono contento, ma non so voi giornalisti o chi pensa che sono rimasto qua con la testa sbagliata, non ho proprio capito niente, poi io non devo ne dimostrare niente ai tifosi che dicono che è rimasto qua con la testa sbagliata, perché non mi interessa proprio quello che deve sapere il mister, il gruppo e tutti quanti quelli della società lo sanno, quindi ovvio fa piacere, se c'è interesse essere A come tutti i ragazzi e non devo giustificare niente a nessuno. Tranquillamente, siamo tutti forti, non c'è da lamentarsi, quindi il mister mette quello che magari sta meglio e niente, siamo un gruppo, chi gioca gioca e basta vincere, non è quello importante, poi vi farà il mister le sue valutazioni.